buonasera a tutti i motociclisti e tutte le motocicliste le biker girl naturalmente io sono davide mosconi alterini e stasera voglio fare questo video per mandare un messaggio a tutti i motociclisti quelli appassionati naturalmente di strade off road di strade bianche io ho una bmw r 1150 gs e quindi sono sempre alla ricerca di motociclisti che abbiano la stessa passione per andare a fare delle gite dei tour dei viaggi ma sono sempre da solo non riesco mai a trovare delle persone che vengono insieme a me e quindi questo è un messaggio che faccio stasera prima di rientrare a casa qui dalla cittadina di sansepolcro sono proprio qui alle mie spalle c'è il dipinto più importante del cristianesimo come vedete là in fondo la resurrezione di piero della francesca io oltre a essere appassionato di motociclismo e sono e di enduro di maxi enduro un enduro soft quindi le strade naturalmente che riesco a rintracciare io io ho oltre mille tracciati tutte su strade secondarie mai su strade principali o autostrade o superstrade e quindi oltre a essere appassionato di motociclismo su questo tipo di strade sono anche appassionato di cultura e di arte ecco per quale motivo ho un sito che si chiama moto evasioni che non è proprio riferito esclusivamente alla moto ma moto evasioni proprio come moto come movimento e poi naturalmente come anche come motociclismo ovviamente quindi adesso vi farò vedere qualche spezzone di video che io faccio mentre percorro questo tipo di strade così vi renderete conto ma venite a visitarmi anche nel canale youtube di sfida contro o italia off maps se preferite con tutti e due nomi mi rintracciate italia off map vuol dire proprio italia fuori dalle cartine proprio perché i miei percorsi non sono rintracciabili da nessuna parte ce l'ho io e basta oltre mille tracce gpx quindi vi auguro naturalmente a tutti una buona strada e guardate i video gli spezzoni di video che passeranno dopo questa presentazione io anche 29 e 30 di aprile sarò in giro se qualcuno naturalmente si vuole unire i contatti ci sono tutti andate sul gruppo facebook di moto evasioni oppure sul sito www.motoevasioni.it e c'è anche un blog moto evasioni.com grazie buonasera a tutto ea tutti i motociclisti naturalmente le motocicliste e guardate le strade che faccio e intanto che sono qui a san sepolcro non voglio perdere l'occasione per farvi vedere cos'è che mi emoziona cosa mi appassiona quando nei miei viaggi naturalmente incontro l'arte e la cultura e la bellezza dei nostri centri storici come questo qui a san sepolcro questa è via niccolò al giunti qui siamo proprio davanti alla chiesa di san francesco e naturalmente il campanile tanto per farvi vedere e poi da dove ho fatto la diretta eccolo qua le scale dove c'è il museo di piero della francesca dove vi ho indicato il dipinto più importante del cristianesimo la resurrezione è in fondo piazza torre di berta san sepolcro davide mosconi alterini un motociclista come voi un appassionato di enduro grazie grazie grazie